Dove eravamo rimasti? Avevo appena chiesto quali erano i suoi rapporti con il dottor Westerman. Eravamo amici. Amici? Sì, solo amici. A Granitz non abita più molta gente e quei pochi tendono a fare vita abbattata. Posso sapere a che cosa aveva la vostra visita? All'ulto probabilmente sarebbe sopravvissuto. È stato avvelenato. Avvelenato? Che è? Questa storia è sempre più assurda. Prima gli sarebbe apparsa questa dama bianca e adesso viene fuori che è stato anche avvelenato come lei.